Nella vita cade come nel gioco degli scacchi. Noi abbozziamo un piano, ma esso è condizionato da ciò che si compiacerà di fare nel gioco degli scacchi l'avversario, nella vita il destino. Metafora della vita per Arthur Schopenhauer, gli scacchi non sono solo un semplice gioco di strategia su una tavola quadrata, ma una disciplina complessa che abbraccia ambiti differenti e affascina da sempre grandi e piccini, che senza limiti di età possono confrontarsi e affrontarsi su una scacchiera mettendo in campo le proprie abilità mentali. Generazioni a confronto si sfidano nei campionati, come quello che si è tenuto nei giorni scorsi al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano, al TG8 Andrea Rebbe Gianni, presidente del circolo scacchi Fischer di Chieti. Un torneo internazionale, 143 giocatori provenienti da 15 o 16 regioni d'Italia, forse 8 federazioni estere, che è stato un torneo classico in Abruzzo, si fa ormai da 8 anni, facciamo anche altri due eventi internazionali, quindi a noi riusciamo anche a creare un veicolo pubblicitario di risonanza turistica per la regione Abruzzo, in particolare per Montesilvano, che andremo anche a incentivare con la finale del trofeo scacchi scuola. 1.400 giocatori si è tutti contemporaneamente a giocare al Palo di Marti dal 7 al 10 di maggio, poi addirittura avremo i mondiali che avremo a novembre, gli scacchi sono un po' tutto, arte, sport, scienza, palestra di vita, metafora educativa. Io mi soffermerei sull'aspetto formativo ed educativo degli scacchi, un processo continuo di risoluzione di problemi, quando io e il mio avversario siamo sulla scacchiera ci confrontiamo con delle idee, troviamo dei percorsi di soluzione che sono variabili in base alle modifiche che ci sono dei bisogni altrui e quindi insegnano molto a pensare in un'ottica cooperativa in cui c'è l'altro. Marco Biagioli, segretario della Commissione Legislativa della Federazione Internazionale degli Scacchi, come siamo messi in Italia rispetto ad altri paesi? L'Italia negli ultimi 25 anni ha fatto passi da gigante nello sviluppo degli scacchi, soprattutto in termini di atleti di alto livello. Certo non siamo ancora ai livelli di certe superpotenze europee che hanno una tradizione scacchistica molto lunga e radicata nel tempo e in cui gli scacchi costituiscono una parte integrante della formazione dei giovani nelle scuole. Sebbene il Parlamento europeo abbia cercato dieci anni fa di spingere l'introduzione degli scacchi come disciplina scolastica, c'è ancora un ritardo in Italia nell'ingresso nelle scuole, per quanto i programmi di scacchi a scuola siano molto sviluppati in certe regioni e si stiano ingrandendo. Nell'est Europa gli scacchi entrano prepotentemente immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, all'Ovest arrivano dopo gli anni 70 e quindi patiamo un piccolo ritardo. È una disciplina questa che è affascinante anche nella misura in cui mette a confronto generazioni completamente diverse, partiamo da bambini molto piccoli a persone anche molto adulte. Gli scacchi sono uno sport per tutti e assolutamente senza età. Ci sono giocatori che iniziano ad approcciarsi agli scacchi a quattro anni, così come ci sono giocatori quasi secolari e comunque ultra novantenni che giocano ancora. E certamente in un torneo che non abbia restrizioni d'età potrebbero esserci indicativamente fino a cinque generazioni all'interno di un torneo di scacchi che giocano l'una contro l'altra.